Ecco un altro video di questa giornata che completiamo la serata con questa creazione. Questa è la mia seconda creazione di oggi, le altre spero di riuscire a finire tra domani e dopo domani, vediamo un po', se riesco. Prima di lasciarvi e augurarvi buona serata perché nel sabato sera si esce ragazze, per forza non si può stare a casa, vi faccio vedere la mia creazione, ho utilizzato questi colori, che sono i colori anche dell'autunno. Dite già pensi all'autunno? Sì ragazze, perché io il caldo lo detesto e questo è anche un po' il mio colore preferito. Ve lo mostro da vicino, sono i nuovi materiali che ho acquistato da Cristalline, meno che i svarocchi, i svarocchi già li avevo. Non vi saprei dire il colore perché sulla busta quando li avevo acquistati non c'era scritto, quindi non me lo ricordo il colore, però dei svarocchi e delle perline sì, e questi ve li dirò senza meno nell'altro video. La gemma è sempre l'idea di un piccolo fiore, dietro l'ho colorata con lo smalto un po' in argento per schiarire il colore, perché era un verde troppo scuro. Spero che vi piace e adesso vi dirò i colori delle perline. A presto e buona tirata a tutte!